La città dei sindaci, Lucera, rimarrà senza sindaco da gennaio. L'affare Maia Rigenera ha portato il primo cittadino, Antonio Tutolo, ad abbandonare la poltrona dall'inizio del 2019. Sarà una sorta di aspettativa non retribuita, visto che per scongiurare l'arrivo del commissario prefettizio, Tutolo formalmente resterà a capo dell'amministrazione, ma a rappresentarlo ci sarà il suo vice, Fabrizio Abate. Ed è un fatto singolare per Lucera restare senza sindaco, proprio perché nel centro federiciano vivono ben quattro uomini con la fascia tricolore. Dal sindaco Giannini Vicelle San Vito ad Antonio Santa Croce di Volturino, da Leonardo Russo di Volturara Appula allo stesso Antonio Tutolo, tutti hanno in comune la città d'origine, nella quale tuttora vivono e lavorano. Solo che da gennaio Lucera potrà contare solamente su tre sindaci. E da gennaio cosa farà il sindaco Tutolo? Qualche marmellata in più, qualche crostata in più, ho voglia di riposarmi, ho voglia di dare tranquillità a questa città, perché questa città ha bisogno di tranquillità. Probabilmente non sono la persona adeguata per dare tranquillità a questa città. La città oggi, o meglio ieri, quando ho dato quel parere negativo, probabilmente ho fatto la cosa giusta nel senso di dare tranquillità alle città. In quel momento la città voleva quella cosa là, però non so se è la cosa giusta. A me sarebbe piaciuto scoprirlo perché io volevo fare una domanda semplicissima ai tecnici. Mi fate capire se questa soluzione che ci viene prospettata è la soluzione al problema o lo vado a gravare?